Allerta maltempo di nuovo sull'Orvietano dalle ore 19 di martedì 17 giugno una veloce ma intensa perturbazione si è abbattuta sul comprensorio nel centro della città di Orvieto, piazze allagate e tombini che non sono riusciti a recepire le acque piovane. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che prolunga ed estende quelle di Ramate nei giorni scorsi. Gli esperti prevedono precipitazioni diffuse e intense che potrebbero essere accompagnate da grandi fulmini e forti raffiche di vento su Umbria e Lazio, specialmente nel centro Italia, anche per le prossime 48 ore.